Simeoni e Mennea, due destini che si incrociano in due record mondiali inattesi a fine anni 70. Due destini che si tingono d'oro nella stessa Olimpiade, quella di Mosca nell'80. Lui è un fascio di nervi tesi, determinato, agli occhi di tutti addosso. Qualcuno ha scritto, Dio della pioggia, si ferma, aspetta la gara di Mennea e poi appena finisce si riprende e riprende a pioggia. Lei è gracile e aggraziata, riservata e lontana dalle luci della ribalta. Era una gara solo femminile, non c'erano tv, non c'erano giornalisti, erano tutti a Venezia con i maschi perché erano tutti là. Lei è a Brescia, in una piccola arena di provincia e sogna il record nel salto in alto. Lui è a Città del Messico, alla caccia del record del mondo di 200 metri. Pietro Mennea punta i piedi sulla terra. Deve lottare contro il tempo. Sono mesi che prepara l'assalto al primato mondiale. Fece una partenza di una velocità inaudita. Sara Simeone, invece, deve lottare contro la forza di gravità. Nessuno si sarebbe aspettato che avrebbe sfidato quel giorno un'asticella sospesa nel cielo oltre i due metri, oltre il primato mondiale. Ho provato a mettere l'asticella a 2.1. A 2.1 perché mi dicevo due metri non ha senso, c'è già o lo faccio o niente. Menea, a Città del Messico, intanto, corre con tutta la forza che può verso il traguardo. Fece il vuoto dagli 80 metri dalla partenza fino ai 160-170 metri. La Simeone a Brescia prende l'aria in corsa per saltare più in alto che può. Il 4 agosto del 1978, Sara Simeone supera 2.1 metri, stabilendo a sorpresa il primato mondiale della specialità. Ma l'atletica femminile è snobbata dalla televisione e così non c'è neanche una telecamera a riprenderla. Se c'è il filmato del mio salto è perché è da un amatore che aveva la cinepresa e l'ha filmato. Il 29 agosto del 1979, Menea ferma il cronometro a 19 secondi e 72 centesimi. Un tempo inaudito, cercato, atteso da lui, dal suo allenatore Carlo Vittori e da tanti altri. Subito dopo il traguardo, intorno a Pietro, a differenza di quanto accaduto alla Simeone, c'è una folla di fotografi, giornalisti e dirigenti. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. Due record, avvenuti in circostanze così diverse, non potevano che provenire da due storie molto diverse, a volte contrapposte. Pietro Menea nasce a Barletta, figlio di una terra aspra e spigolosa, proprio come il suo carattere. Cresce in una famiglia modesta, che lavora sodo e non ha tempo di praticare gli sport. Per lui, invece, l'atletica è tutto, da subito. Correre è un'occasione di riscatto sociale, un modo per far vedere quanto vale e sfidare tutti i pronostici, tutti i pregiudizi. Io vedi questo ragazzo, avevo l'allenatore vicino, e gli disse che quando l'hai tirato fuori questo mingherlino, perché era asciutto, magro. Questa frase è rimasta poi proverbiale, perché ogni volta che voleva sfottermi, dice il professore, non ci aveva capito niente. Vittori, così mi vide, così magro, dice, ma non posso perdere tempo con questo ragazzo. Dice, questo è un ragazzo che prima deve mangiarsi, deve robustire, poi eventualmente possiamo prenderlo in considerazione. Ma il fisico non è tutto. Il professor Vittori si accorgerà presto di avere fra le mani un atleta dalla pasta fuori dal comune. Lui ha trovato in me un soggetto ideale per allenare, perché io non dicevo mai no all'allenamento, anzi. Mentre Menea inizia a costruire la sua carriera fatta di sedute di allenamento massacranti e spirito di sacrificio, su al nord, in provincia di Verona, la piccola Sara Simeoni ha altre ambizioni. Sogna di diventare una ballerina. Danza significava danza classica, quindi anche scarpette col gesso, piedino un pochino lungo, insomma. I piedi lunghi e un'altezza fuori del normale non si addicono a una ballerina, ma sono perfetti per l'altra grande passione di Sara, il salto in alto. Sara decide presto di lasciare il palcoscenico e riservare i suoi slanci per le piste di atletica e va sempre più in alto. Non era tanto questa corsa al record, c'era questo bisogno probabilmente di migliorare anche di un centimetro per dirmi se ne valeva la pena. Agli Olimpiadi di Mosca del 1980 Mennea e la Simeoni si presentano come i detentori del primato mondiale. Sono loro gli atleti da batteri, tanto più che gli avversari americani sono rimasti a casa a causa del boicottaggio degli Stati Uniti. Il primo a scendere in gara è Mennea, nelle batterie dei 100 metri. Mennea molto tirato. I primi quattro accedono alla finale in programma più tardi. Parte male sui 100 metri, sì, sempre per questa grande difficoltà nell'apprezzamento di se stesso. A sorpresa il corridore di Barletta è battuto. Non riesce neppure a entrare nella finale, poi dominata dal giovane inglese Alan Wells. Mennea è sesto, irrimediabilmente eliminato. Probabilmente sapeva che qui non poteva fallire e forse questo suo travaglio l'ha anche svuotato. Due giorni più tardi, il 26 luglio, arriva il momento di Sara Simeoni. Ma l'emozione olimpica stavolta rischia di fare lo sgambetto anche a lei. Mi tremavano le gambe, mi veniva da piangere. Avrei voluto tanto sapere com'era andata a finire la gara. C'è proprio il panico. E poi l'allora mio allenatore, oggi marito, mi ha chiamato dalle tribune e forse quello mi ha scosso un attimo. E sono riuscita a tornare in me. Dopo tre ore di salti, sono rimaste tre atleti a contendersi la medaglia d'oro. La Simeoni, la tedesca Kirst e la polacca Kylan. Anche errore per la Kylan. La sticella è fissata a un metro e 97 centimetri. Ah, primo errore. Primo errore di Sara Simeoni. Errore della Kirst. La Kirst non ce la fa. Sara Simeoni è al suo secondo tentativo. Bene, bene, bravissima, brava. Fantastica, fantastica Sara Simeoni, fantastica. Ora tocca di nuovo alla Kylan. È alla sua ultima possibilità. Se sbaglia, Sara Simeoni è medaglia d'oro. Fallito, oro. Medaglia d'oro, Sara Simeoni, Sara Simeoni. Ho continuato a piangere, non so per quanto, ma delle lacrime calde, mi ricordo. Tante, tante lacrime e caldissime. Sara Simeoni non si vergogna di mostrare le emozioni. Le sue lacrime e i suoi sorrisi conquistano tutti e il suo volto così umano fabbriciano il cuore dei tifosi. Due giorni più tardi, i tratti di Menea sono molto più tirati sui blocchi di partenza della sua gara, la finale dei 200 metri. I giudici gli hanno assegnato l'ultima corsia, l'ottava. Accanto a lui, in maglia bianca, il suo principale avversario, Wells. Gli dissi, non ti impressionare, perché Wells, dico, corre all'interno, lui aveva l'ottava, credo che Wells avesse la sesta. Dico, guarda che lui, oltre la metà curva, ti sta subito vicino e uscirà avanti a te, perché vuole spaventarti. Per cui non ti irrigidire, stai tranquillo. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, per quanto ci riguarda. Menea in ottava corsia. Parte più svelto, Wells, nei confronti di Menea, che lo supera subito. Allora lui mi supera la prima parte già, e io in un momento non ci ho capito più. O vado piano io, o va forte lui. Ecco, vediamo l'operlotta, spalla a spalla, tra Wells e Menea. All'uscita della curva mi sono detto, bisogna reagire, sennò anche questa gara è andata. E lì ho cominciato questa rimonta, che sa dell'incredibile, e che anch'io adesso, ogni tanto, quando vedo questa gara, mi domando, ma... Menea cerca di recuperare, cerca di recuperare, recupera, 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 recupera. Lui si allungò per colmare quel gap. Ma io ho mai avuto a lui. Recupera, 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 recupera. Ha vinto, ha vinto! Traordinaria impresa di Menea. Qualche teleconista staniero, tipo inglese, loro la descrivono come la più grande ed emozionante gara della storia dell'Olimpia. Recupera, 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 recupera. Traordinaria impresa di Menea. Con la sua straordinaria forza di volontà, Pietro Menea riacciuffa un oro impossibile. Con la sua innata eleganza, Sara Simeoni lo aspetta là in alto, sulle vette dell'Olimpo. Ed è grazie a loro che a Mosca l'Italia riscopre il significato originario dell'atletica leggera. Grazie alla velocità di Pietro Menea. Grazie alla leggerezza di Sara Simeoni.